pronti via che cos'è l'home lock e che cos'è l'home lock sono due impostazioni indispensabili per capire come ritornare a casa nel momento in cui abbiamo perso l'orientamento del mezzo ad una certa distanza parliamo con l'home lock se non sapessi come sono posizionato ho la possibilità di tirare la leva del pitch verso di me e lui in qualsiasi posizione si trovi anche ruotando il drone stesso continuerà a venire verso la mia direzione con il course lock invece avremo una sorta di griglia attraverso la quale noi potremo muoverci quindi se daremo indietro non verrà per forza di cose verso di noi ma creerà una griglia in virtù del punto in cui si trovava precedentemente un headless mode veramente utile per quando non sappiamo più come è posizionato il drone il mio preferito tra home lock e course lock rimane comunque il home lock perché siamo noi al centro di un cerchio immaginario e quindi basta tirare il nostro stick verso di noi e il drone arriverà verso di noi questi sono tutti i multiple flight mode disponibili all'interno dell'applicazione per il Phantom se avete qualsiasi domanda non esitate a contattarmi scrivetemi qui sotto nell'info box fatemi tutte le domande che volete perché così avrò modo di fare degli altri video e di tenervi aggiornati con tutte le novità e le innovazioni tecnologiche per quanto riguarda questo drone e per quanto riguarda il mondo degli APR in generale un saluto a tutti quanti iscrivetevi al mio canale cliccate mi piace e ci vediamo alla prossima puntata ciao